Buonasera e ben ritrovati in questo appuntamento con la voce dell'istituzione, è il piacere di avere in studio Dario Bond che è deputato per Forza Italia, che ringrazio e saluto. Buonasera a tutti. Abbiamo alcune situazioni particolarmente delicate in provincia di Belluno che riguardano il mondo del lavoro, peraltro sembrano essere un prodromo ad una annata che si presenta particolarmente difficile, anche perché ci sono molte concause legate al mondo del lavoro, ma le due più preoccupanti sono Wanbao, ma soprattutto Safilo. Io inizierei con Wanbao perché Wanbao ha una situazione abbastanza paradossale, ci troviamo con degli stabilimenti in Austria chiusi, con degli ordini possibili che possono proprio arrivare per lo stabilimento di Mell, anche di tanti milioni di pezzi, di compressori, con una professionalità di questo stabilimento, di suoi lavoratori elevata, con una situazione in cui tutto lascia a pensare che c'è del lavoro, che ci sono degli ordini e in verità i cinesi vogliono andarsene, chiudere il stabilimento, incassare quello che hanno incassato, prendere quello che hanno preso, portarsi via una lista di clienti e lasciare lo stabilimento di Mell. Ne approfitto per dirla, questa è una notizia, ma in qualche maniera la dico in anteprima, secondo me la strada, ma si sta delineando questo aspetto, la strada non è tanto convincere i cinesi attraverso il console cinese in Italia a rimanere, perché i cinesi hanno già deciso di metterci i lucchetti a chiudere, portarsi via anche il mobilietto di legno. La strada più opportuna è dare la gestione di questo stabilimento ad un commissario, che secondo me non può essere altro che Castro, dandogli come Ministero i pieni poteri, dandogli i pieni poteri anche economici della gestione, perché guardo lei, ma guardo i telespettatori, cosa farebbero praticamente i telespettatori o lei, se lei o i telespettatori hanno e avessero praticamente milioni di ordini da fare e dicono no, chiudiamo lo stabilimento, è successo ancora in Italia, perché in Italia sono successe tante volte le situazioni italiane, ma se si può attraverso un articolo di legge provvedere comunque alla gestione, dare del lavoro, produrre delle cose, venderle perché ci sono gli ordini, dico ma perché chiudiamo. Anche perché è l'unica azienda in Europa che produce questi compressori. È un'unica, con tutte quelle che sono morte o chiuse, è l'unica azienda che fa compressori di questo tipo, ma attenzione, ci sta anche delineando e profilando una sorta di una serie di investimenti di innovazione tecnologica, tale per cui ci possono essere 5 prototipi di nuovi compressori di ultima generazione che creerebbero altre ulteriori. Ma attenzione, e questa è ancora la notizia, potremmo anche assistere al salvataggio di tutti i posti di lavoro e l'assunzione di altri posti di lavoro, andiamo dal rischio di perdere quasi 400 posti alla possibilità di averne 600. Questa è una cosa che bisogna farla la battaglia, domani o dopo domani o in questi giorni ci sarà un incontro al Ministero. Sforzarsi di chiedere al MEF e a tutto il sistema nazionale e regionale di dare solidità e sostegno a una gestione commissariale, secondo me è la via più opportuna, quanto meno si dimostra di avere l'idea chiara, una volta, ogni tanto. Anche perché sembra faccia parte di un disegno di Cina e d'India, che sono paesi che hanno grandi capacità di impoverire l'Europa per poi… Ma sono prenditori, questi sono prenditori, hanno una logica che è quella di venire, capire, copiare, portarsi via e portarsi via la lista dei clienti. Parliamo adesso della Safilo, sono tanti 700. Qui la questione è un po' più complessa perché qui è una questione che stiamo pagando le gestioni passate della Safilo e di qualche grosso manager che per fortuna è andato via. Qui è una questione di marchi di moda e qui bisogna che l'appello deve essere fatto a tutto il comparto dell'occhiale perché possa in qualche maniera aiutare direttamente Safilo ma aiutare soprattutto al sovrimimento di questi nuovi… di questi possibili operai che si mettono con grande professionalità anche in questo caso, che si mettono sul mercato dell'oro perché Safilo in qualche maniera tratterà, i sindacati tratteranno, il ministero tratterà, la regione dovrà, però alla fine ci sarà comunque un esubero. Qui bisogna che il sistema faccia solidarietà in un mondo, la provincia di Belluno, in cui l'occhiale è l'asset fondamentale. Sì, è che siamo un po' contraddittori, che da una parte ci si esalta perché ci sono delle strutture che continuano ad assumere, dall'altra parte ci si lamenta perché qualcuno deve licenziare, diciamo che è una guerra interna… Perché non ci si parla, non ci si parla, adesso obiettivamente ci si parlava di più 20 anni fa rispetto ad adesso, con tutti i social media che ci sono, con tutti i sistemi che abbiamo non ci si parla più, ognuno ha chiuso la porta e quindi alla fine molte volte l'egoismo prevale praticamente sul benaffare, sulla voglia di aiutare, sulle radici fondamentali della nostra vita e della nostra vita quotidiana, che è quella dell'aiuto. Senta, sembra quasi ridicolo, ma proprio in queste giornate si legge sui quotidiani, ne abbiamo dato notizie anche noi, che la provincia di Belluno avrebbe bisogno di 5-6 mila lavoratori per mantenere il trend lavorativo e da una parte ci si preoccupa perché questi lavoratori forse non troveranno lavoro e dall'altra che non freniamo l'importazione di lavoratori anche dall'estero. Sì, qui ho una idea, ma non è che questa idea possa risolvere tutto, però onestamente nella provincia di Belluno, nel nostro territorio che ha un indice di spopolamento elevatissimo nei prossimi 4 anni e ancora di più, stiamo scendendo sotto i 200 mila, nel nostro territorio ci manca la cornice. Allora, è vero che la politica non può fare tutto, ma la politica assieme a una serie di soggetti che riescono a pensare e riescono a metterci delle idee può fare molto e secondo me la cornice non può passare altro che attraverso una struttura rappresentata da un'amministrazione provinciale, da un meccanismo di governo, perché lo dico, sono in mente tutte le responsabilità, ma senza togliere niente da nessuno, senza criticare nessuno, non è questa provincia che ci serve a noi, non è una provincia svuotata di professionalità con pochissimi poteri a disposizione. Adesso non voglio fare una critica all'onorevole ex Ministro del Rio, ma ci ha lasciato praticamente un osso un po' spolpato con dei buchi e che è difficile da rimettere in piedi. Noi abbiamo bisogno di una sorta di meccanismo di regia, dove la comunicazione nei singoli comuni, la comunicazione fatta anche praticamente di social media, il meccanismo praticamente degli investimenti, deve essere un tutt'uno con le associazioni industriali, con le associazioni che producono, con il volontariato, con chi ci mette la faccia tutti i giorni, non può esserci un'iniziativa di qualcuno supportata da un ente magari di secondo grado, di terzo grado e poi praticamente è nulla, ci deve essere una strada. Il meccanismo, lo rubo due minuti, il meccanismo è più o meno quello della provincia autonoma di Trento, mi rendo conto che siamo su due livelli diversi, ma quando il sottoscritto lanciò un anno e mezzo fa, appena eletto, la facoltà di medicina a Trento e andò a Trento a spiegare il perché, con la carenza di medici, lanciando i medici di montagna, cioè la facoltà di medicina di montagna, fui ripreso da qualche giornale locale e pian pianino praticamente seguì lo stesso la situazione, ma non ho avuto grandi riscontri. Adesso però la provincia autonoma di Trento, attraverso l'assessorato sia della formazione, sia dell'alta cultura, sia della sanità, ha lanciato ufficialmente l'idea di far nascere, attraverso una collaborazione fattiva con Verona, una facoltà di medicina che guarda l'arco alpino. Allora, questa è programmazione. Così come è successo però anche per la LUIS che è stata portata con un gioco di squadra. Sì, ecco anche qui è un esempio, ma non è stata una programmazione politica, è stata una programmazione di qualcuno che rappresenta dei lavoratori delle aziende e che in qualche maniera con tanta buona volontà è riuscito a fare questa operazione. Quindi lei per una maggiore quantità di stati generali perché si usi questo termine. Sì, io sono uno di quelli che ha sottoscritto, e non mi vergogno a dirlo, l'elezione diretta del Presidente della provincia a livello nazionale. Era una proposta portata avanti la Lega Nord e io l'ho sottoscritta in pieno perché sono convinto che questo serva in determinati territori come il nostro. Se mancano i tempi bisogna che ci inventiamo qualcosa di importante. Senta, il Veneto scommette molto sull'ottenimento dell'autonomia che però ancora non è arrivata nonostante se siano prodigati coloro che l'hanno promossa e siamo tutti noi, visto che il referendum ha stravinto il desiderio di una maggiore autonomia. Che strada vede, che tempi vede? Io sono nella Commissione Affari Regionali che segue tutti i progetti legati all'autonomia. Ho vissuto 14 mesi di dibattiti continui con i Ministri e con il Ministro Stefani su quante e quali materie dovevano entrare e quali competenze. Alcuni ministeri non hanno mai dato una risposta, alcuni altri avevano già definito sia il budget che le competenze. Adesso si è capovolta completamente la situazione, non parliamo più di 23 materie, parliamo praticamente di costi standard e livelli essenziali di sussistenza, di LEP, livelli essenziali di prestazione. Mentre i costi standard sono calcolati, abbiamo già a disposizione, il Ministro Boccia non ha i LEP, quindi i LEP sono livelli essenziali di prestazione. Io ti faccio fare un'attività ma tu devi rispettare questi LEP. E questi LEP li vuole non in Veneto, dove li abbiamo già calcolati noi, facendosi un po' da meccanici della situazione, non in Trettino dove si li hanno fatti, non in Lombardia, li vuole in tutta Italia. E lei consideri solamente una cosa che, siccome sono stato redattore di minoranza per il decreto Calabria per quanto riguarda la sanità, perché faccio parte della Commissione Sanità, ricordo che in Calabria la sanità non ha, oltre che un direttore generale che ce l'ha perché viene pagato, non ha assolutamente in molti casi, in molti ospitali neanche il bilancio. Che incredibile! Quindi lascio agli telespettatori e a lei pensare come faremo ad avere il LEP in tutta Italia. E la risposta che lei dico è che se è questa la strada difficilmente vedremo qualcosa di concreto. Magari arriverà un progetto di legge in Parlamento, ma da quel momento a cambiare le sorti del nostro portafoglio, della nostra qualità di vita o delle nostre situazioni varie legate al sistema produttivo passerà molto, molto tempo. Qualcuno avrebbe visto un'altra strada da percorrere, perché se l'autonomia viene data alla Regione del Veneto, alla provincia di Belluno può insistere per la propria specificità. Ma visto che i tempi si stanno allungando, qualcuno ha pensato perché non facciamo una zona economica speciale nella provincia di Belluno, tenuto conto che è stata emanata una legge che coinvolge Venezia e una parte del Polesine. Che cosa è una zona economia speciale? Questa è una zona dove l'interesse sia per quanto riguarda gli stimoli economici, sia per quanto riguarda il sistema fiscale, sia per quanto riguarda poi gli interventi da fare all'interno del sistema produttivo sociale da parte dell'Europa e da parte dello Stato di Italiano. In quest'area sono garantie di tutta una serie di interventi che in altre aree non ci sono. Defiscalizzati. Quindi praticamente defiscalizzati, ma anche supportati da un iter burocratico molto più semplice e molto più veloce. Io rimango ancora dell'opinione, ringrazio gli artigiani e tutto il sistema produttivo che ha portato a Andi, che è ancora possibile legarsi o comunque collegarsi a questa iniziativa che ormai ha avuto una sorta di via libera. Perché? Perché in alcuni casi, su alcune realtà, la provincia di Belluno ha gli stessi parametri del Polesine e quindi in qualche maniera ci si può agganciare a questo provvedimento. I tempi per questo cosa potrebbero essere? I tempi, lo dico, è già partito il trenino di Marghera e di parte di Venezia e del Polesine e di parte di Rovigo. Bisogna in questo caso fare un appello, e lo faccio al Ministro Dincà, ma bisogna rompere tanto le scatole al Ministro Gualtieri e ai sottosegretari. Ad esempio il sottosegretario Barretta è molto sensibile a questa questione, bisogna in qualche maniera, senza logiche di partito, ma con tanta buona volontà e anche tanta voglia di fare, battere la cassa, come l'ho fatto, e lo dico e me ne vanto, insieme anche a altri, ma come l'ho fatto per quanto riguarda la proroga dell'ordinanza della protezione civile per un altro anno. Che significa? Che significa avere un inter burocratico nella realizzazione delle opere, ad esempio di difesa del suolo molto più spedito, molto più veloce, significa anche aiutare i sindaci, gli amministratori a non prendersi tante denunce per quanto riguarda i reati ambientali, significa riuscire probabilmente a spendere tutti i soldi che lo Stato e l'Europa ci hanno dato per realizzare molte opere che abbiamo estremo bisogno, perché Vaya ha scorso il mondo a livello ambientale, non sono caduti solamente gli alberi, si sono mossi interi milioni di materiali, di metri cubi di materiali e questi ci presentano il conto prima o dopo. In una provincia sul quale è calato nella parte alta un ulteriore vincolo, mi pare che anche lei abbia preso posizioni molto ferme e assolutamente distanti dalle opinioni ministeriali. Io l'avevo detto quel giorno nella manifestazione sua a Padola, che la situazione era brutta, ho preso il microfono, ho parlato quasi per ultimo e non sono andato a cercare di applausi, non ho fatto un intervento di malattia, ho detto solamente e l'ho ripetuto 5 volte e guardate che la situazione è molto grave, perché quel giorno che abbiamo parlato con il direttore generale del Ministero, dagli suoi occhi, dal modo che aveva di moda le mani, dal fatto che non voleva dire tutto, si capiva che c'era un vincolo pesantissimo sopra la testa ed è un vincolo che secondo me è ancora peggio di Cortina, che è tutto da dire perché Cortina è un po' dovrebbe essere, è un vincolo che renderà la vita dei comunicesi e di parte del calore molto dura, qua bisogna in qualche maniera prendere il Ministro Franceschini e tutto lo staff che è cambiato, perché quel direttore generale è andato in pensione e fargli fare un ragionamento, ma attenzione, quel vincolo lì che noi tanto ci lamentiamo non è partito a Roma, è partito a Venezia e con lo stesso procedimento, non Venezia ragione, Venezia sovrintendenza, con lo stesso procedimento dobbiamo andare a Venezia a far capire, a far ragionare che quel vincolo così come è stato messo, così come è stato praticamente posto in maniera bruttissima sopra la testa di tutti i cittadini e gli amministratori non può essere tollerato. Ma senta, lo si deve leggere in chiave di ostruzione al collegamento tra il Comerico e la Pusteria, anche perché lì si agganciava un'altra possibilità di un collegamento tra Padola e Auronzo, anche se era un progetto così improvvisato. Ho la sensazione che quella sia stata un po' la questione del vincolo è partita tanto tempo fa, è partita ma tanto tempo fa, non è partita questi ultimi due anni qua, è partita tanto tempo fa, il problema è che poi alla fine questi nodi vengono tutti a pettine, quando ti trovi dei funzionari a livello di sovrintendenza regionale che sposano in pieno delle tesi di vincolo, perché la scusa come disse quella volta il Direttore Generale era che era l'unico, guardate onorevole, che è l'unico territorio non vincolato della provincia di Belluno, partendo da queste considerazioni sono riusciti a fare un meccanismo talmente contorto, talmente perverso di vincolo e di non vita dei cittadini che veramente ci sarà uno spopolamento, ma ripeto, bisogna andare a Venezia e solicitare un messaggio che da Venezia arrivi a Roma al Ministero, al Ministero funzionari, nel dire rivediamo la cosa e da Roma poi tutti quanti in maniera di attraversare e secondo me bisogna fare anche dei diatti di forza, molto forti. Ho quasi paura a chiederle di che tipo. Di questi tempi qua con tutte le manete che girano non mi sento di dirlo, però bisogna creare qualcosa di importante. Un'ultima battuta, sempre i dati vengono dati e poi vengono smentiti, comunque a proposito lo spopolamento è l'unica provincia che riesce ad aumentare gli abitanti a Bolzano, ma c'è un sistema assistenzialista, positivo evidentemente per qualcuno, che non lascia dubbi su quale è la strada da scegliere. Soldi alla gente. Soldi alla gente, sicurezza. Tutto il resto è chiacchiera? Tutto il resto è chiacchiera. Ormai ho i miei anni anch'io, avevo uno zainetto tanto ricco di idee, ce l'ho ancora tuttora, ma alla fine su questo argomento qui o dai garanzie che ci sono una serie di servizi e c'è una sorta di protezione nella famiglia quando c'è un bambino che arriva e allora a quel punto la metti un po' di tranquillità oppure fallisci. La sto vivendo io e sono diventato nonno a poco tempo, ma la sto vivendo io in termini di servizi che questi piccoli nati devono avere e se paghi tutto alla fine fondamentalmente è dura pensare di fare i figli. Intanto gli faccio gli auguri perché è diventato nonno, provo anche un po' di invidia e le lascio la possibilità di fare gli auguri visto che siamo alle trasmissioni di fine anno. Io auguro a tutti intanto tanta salute perché ho visto che alla fine se c'è salute c'è tutto. Poi una solitazione in famiglia, stiamo uniti, cerchiamo di rimanere uniti anche nel nostro nucleo familiare il più possibile e cerchiamo di aiutarci fra i noi, siamo pochi, siamo pochi ma qui pochi devono praticamente in qualche maniera unirsi e unire le forze significa salvare questo territorio. Siamo stati con Dario Bond, deputato di Forza Italia, come sempre ringrazio, grazie a voi per averci seguito, buona serata. Grazie a voi.